Piazza del Ginnasio Piazza del Ginnasio, siamo venuti qui nella sala dove espone Antonello Alloro. Buongiorno Antonello. Buongiorno, buongiorno a voi. Opere, ricordiamo, per chi già ti conosce, tutte in ferro e cemento. Sì, sono tutte fatte in ferro e cemento. È da circa sei anni che inizio questo tipo di lavoro. È capitato per caso, mi hanno invitato a una mostra per fare dei lavori, per presentare una mostra, insomma. Io non sapevo cosa fare, ho fatto 15 pezzi, insomma, senza nessun senso. Poi piano piano mi è piaciuta la cosa e ho iniziato a creare delle opere. Però tenendo conto del mio lavoro, ho preparato dei lavori in ferro e cemento, visto che la forma veniva bene, quindi ho continuato a fare delle cose, delle opere, insomma. Alcune rimangono allo stato grezzo come colore, altre invece le colori. Certo. Allora, questa è l'ultima serie. Io ho proposto al Comune del Ghero se facevamo un museo sott'acqua, però diciamo che ci volevano tanti permessi, tante cose, quindi ho lasciato perdere. Inizialmente l'idea era di fare la fauna sarda, poi invece ho pensato di fare questi microorganismi, dove si vedono nel microscopio, quindi li ho voluti portare in grandi proporzioni. Poi questi li coloro perché all'inizio non ho un senso cromatico, quindi faccio quello che trovo, butto giù dei colori senza senso. Poi mi manca un po' anche il senso della proporzione e quindi cerco di dargli vita a una forma. Antonello, in un certo senso sei anche diventato internazionale, visto che una tua opera è diventata un premio per il Sardini Open, torneo internazionale di Tennis in Carruzzina. Sì, sì, ho pensato di fare questa donazione anche un po' ricordando mio padre che è stato tanti anni in sedia a rotelle e quindi ho voluto dare a questi personaggi, a questi atleti, una delle mie opere, insomma. E la tua arte ha varcato anche il terreno, visto che in questi giorni anche delle artiste provenienti dalla penisola sono venute a trovarti? Sì, sono venute a trovarmi due amiche, Antonella e Fanette. Sono di Toscane e quindi sono venute perché vogliamo presentare dei progetti al comune di Alghero. Adesso stiamo un po' sviluppando quello che è l'idea e poi magari faremo sapere col tempo di quello che abbiamo intenzione di fare. Siamo qui con Fanette Cardinali, con Antonella Farsetti. Siete venute a trovare l'amico Antonello, ma con un motivo ben preciso. Sì, è una gioia essere qui. Mi ha coinvolto in questo progetto Antonella. Siamo amiche da tanto tempo, abbiamo lavorato insieme. Siamo ovviamente felici di essere in Sardegna. Questa terra splendida e speriamo che poter creare qualche bel progetto sia con il mio lavoro. Io sono ceramista, sono figlia d'arte. Mio padre era Franco Cardinali che fa parte della Scuola di Parigi e lavoro la ceramica da 30 anni, da tanto tempo. Antonella lavora il vetro e quindi spesso lavoriamo anche in simbiosi, abbiamo progetti insieme. La nostra speranza è di poter fare qualcosa anche qui ad Alghero. Ceramica, vetro, cemento e ferro, tutti questi materiali. Che progetti utili possono portare ad Alghero? Noi ci auguriamo che qualcosa possa avvenire veramente. Diciamo che con Antonella ci siamo conosciuti per caso davanti a un computer. Adesso continuiamo a parlare dei nostri progetti davanti a un caffè, per fortuna. Quello che ci unisce di fondo è un viaggio attraverso la materia, perché tutti quanti noi tre stiamo indagando la materia, ognuno con la propria ricerca e la propria poetica. E ora vedremo se il comune di Alghero riuscirà a recepire quello che è l'arte. Noi intanto proponiamo, più che proporre, diciamo che vi raccontiamo la nostra esperienza, quello che abbiamo fatto. Io personalmente sono due anni che ho anche la direzione di un museo del vetro. Un museo che è diventato un museo dinamico a tutti gli effetti, perché oltre che sede espositiva è anche sede di laboratori. Stiamo lavorando tantissimo con i laboratori. Un museo del vetro o qualcosa di similare potrebbe avere come sede proprio Alghero? Beh, innanzitutto dovremmo fare una ricerca su quello che può essere la storia del vetro, della vetrata in Alghero. E poi io dico sempre che tutti i progetti partono da un punto zero, poi dopo ci lavoriamo intorno e qualcosa accade sicuro. Fanet, quando Antonella ti ha detto andiamo ad Alghero, c'è un amico o artista, vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di bello. Cosa hai pensato? Beh sì, subito, certo. Siamo figli dell'Europa, quindi Alghero è una terra splendida, è un'Italia meravigliosa e perché no? Si possono fare tantissime cose, basta essere aperti e aver voglia un po' anche di lanciarsi e di rischiare questo un po'. Nel mondo dell'arte è così per tutti gli artisti. bisogna provare, se c'è poco denaro comunque si trova, perché tante volte anche ci sono soldi ma sono spesi male, quindi secondo me ci sono tutte le carte per poter fare qualcosa di buono. E allora l'arte chiama, Alghero riuscirà a rispondere nel modo giusto? Nel mondo dell'arte è così per tutti gli artisti.